Eccoci qua di nuovo in diretta, svegliati Alessandria, 23 novembre 2019, questa è la strada che collega Alessandria a Spinetta, deserta, il ponte della Bormida è stato chiuso, una strada che deserta così non si è mai vista, un traffico tutti i giorni incredibile, causa un mal tempo, causa la piena della Bormida. E' stato chiuso il ponte, non è possibile transitare, come potete vedere dalle immagini, zero macchine, qualcuna che arriva dalla tangenziale, dall'uscita della tangenziale, una situazione davvero preoccupante. Ancora qualche immagine, via Marengo, questa è la direzione verso Spinetta, tutto deserto, da questa parte si arriva in centro città, più di là c'è Retail Park. Veramente una giornata difficile oggi. Ancora Dei danni di questo mal tempo, guardate che buco che c'è qua, un buco che potrebbe senz'altro fare dei danni ai pneumatici delle auto, bisogna prestare molta attenzione sulle strade in questi giorni, guardate che buco. Adesso se riesco ve lo faccio vedere meglio, ecco, sono passate le macchine, eccoci qua, guardate che roba. La conta dei danni non è ancora iniziata, ma questi sono i primi segni del mal tempo. In fondo c'è la pulizia municipale, e adesso ritorniamo indietro. Ancora un saluto e alla prossima.